Roi è una città al centro di grandi trasformazioni, grandissime trasformazioni, alcune già venute, altre in divenire, è proprio lì un nodo al centro. Se noi pensiamo ad esempio agli interventi di Cascina Merlata, l'intervento di Expo, la ricolificazione dell'area Alfa Romeo, la Cittadella della Salute, tutte grandi interventi, grandi trasformazioni che girano intorno a Roi. Roi ritiene di dover avere un ruolo anche propositivo in questa trasformazione. Ad esempio per quanto riguarda la partita Expo, la decisione che abbiamo preso è quella di entrare all'interno della società Arexpo, che è quella che dovrà pianificare tutto ciò che accadrà dopo Expo, perché come sapete l'80% delle strutture che verranno realizzate per Expo al termine dell'evento verranno smantellate. Lì bisogna pianificare un grosso intervento, stiamo parlando di più di un milione di metri cubi. La fiera a Roi ha portato oneri e onori, più oneri diciamo, nel senso che un intervento di quel tipo ti sconvolge la viabilità ad esempio, ma anche l'intera zona perché è un'infrastruttura che richiama tantissimo. Per i cittadini di Roi è stato un problema accettare questo impatto nello sforzo dell'istituzione di governarlo al meglio possibile, però è indubbio che ad esempio c'è stato un aumento di traffico. La parte buona, dico io, è che lì dove c'era una raffineria altamente inquinante, con molti terreni da bonificare, adesso c'è una struttura che comunque è un po' di eccellenza nel settore a livello mondiale, quindi un passo avanti certamente c'è stato, però ha fatto un po' un salto di qualità anche con Fiera, si è un po' internazionalizzata. E' anche vero che l'evento di Fiera ha disatteso un po' le aspettative in termini di ricadute, ci si aspettava più posti di lavoro, più opportunità per le nostre aziende, ma Fiera è un soggetto vivo, pulsante e quindi sta anche a noi l'essere bravi a cogliere queste occasioni, c'è ancora tempo per recuperare e ci stiamo impegnando per questo. Sicuramente una serata positiva, un'occasione per tutti, per ascoltarsi reciprocamente, perché è un tema come l'area del nord-ovest, non vuol dire solo trasformazione urbanistica, ma vuol dire anche politiche del lavoro, politiche dei trasporti, vuol dire turismo, vuol dire mettere a sistema tutto il verde, i parchi e quindi è interessante per un sindaco confrontarsi con degli attori che magari hanno una visuale un po' più alta dei confini amministrativi della tua città.